Far scoprire il Molise ai turisti di fuori regione e migliorare l'albergo diffuso. In regione c'è una dotazione finanziaria pari a 16 milioni di euro. Albergo diffuso, un incontro istituzionale previsto lunedì 11 febbraio nei locali del santuario di Canneto a Roccavivara. Oltre agli amministratori sono invitati tutti gli imprenditori della provincia di Campobasso interessati al bando regionale sulla microricettività turistica. L'avviso pubblico è denominato imprenditori del sistema albergo diffuso turismo rurale, titolari di strutture ricettive, case e appartamenti per le vacanze e affittacamere. L'azione del governo regionale è volta a dare una spinta utile alla crescita del turismo sostenibile locale, ancora troppo debole nelle due province, attraverso una dotazione finanziaria pari a 16 milioni di euro da investire nell'offerta turistica e ricettiva di qualità. Gli interventi dell'avviso riguardano la riconversione e la riqualificazione edilizia del patrimonio immobiliare molisano già esistente. Il termine ultimo per le domande è il 15 marzo di quest'anno. All'appuntamento di lunedì pomeriggio è prevista la presenza di tecnici regionali dell'assessore Arramo Vincenzo Cotugno, un contributo utile nell'intento di far scoprire le ricchezze paesaggistiche e artistiche delle due province e attrarre quanti più turisti da fuori regione.